Il cammino più chiaro, inonderà la facciata di questo ospedale, ecco, già rosso, vero, bianco, che meraviglia. Sono i colori della nostra bandiera, sono i colori della nostra... Ha scelto la luce del tricolore, l'amministrazione comunale di Nocera Inferiore, per illuminare di speranza l'ospedale Umberto I. Ha aderito così alla proposta lanciata qualche giorno fa dalla nostra emittente, il comune capofila dell'Agro. Illuminiamo gli ospedali installando un fascio di luci verde, bianco e rosso sulla facciata in alto del pronto soccorso, proprio di fronte all'ingresso principale dell'ospedale cittadino. Il verde della speranza, il rosso del cuore, il bianco dei camici, dei medici ed infermieri, che stanno combattendo una guerra per tutti noi. Telenuova aveva voluto rilanciare l'iniziativa della città metropolitana di Firenze, quella di dare luce agli ospedali, illuminandoli per tutto il periodo natalizio. Nel capoluogo toscano tre fasci luminosi sono proiettati verso il cielo e se Firenze ha chiamato, una parte dell'Agro ha risposto. Prima Pagani, con l'accensione di un grande albero di Natale davanti all'Andrea Tortora, in segno di speranza, ma anche di vicinanza, sostegno e solidarietà agli operatori sanitari. E ieri sera non c'era inferiore. Far sentire pazienti e operatori sanitari meno soli in questa battaglia così difficile, è questo l'obiettivo dell'idea realizzata grazie all'interessamento del sindaco Manlio Torquato e dell'assessore Federica Fortino. Un gesto simbolico, ma estremamente significativo. Far sentire la vicinanza in un Natale così particolare ed anomalo a chi quotidianamente combatte in trincea una guerra tra le corsie degli ospedali senza risparmiarsi contro un nevico invisibile che tanta sofferenza e dolore sta diffondendo nel mondo e chi ogni giorno rischia la vita per salvare quella degli altri. Un modo per rendere omaggio alla resistenza delle strutture ospedaliere cittadine durante l'emergenza sanitaria in atto e per ricordare il dolore di quanti sono stati travolti dalla malattia. La luce non solo come effimera decorazione, ma come metafora per una visione del futuro a cui affidare la nostra speranza. Quelle luci sono un modo per dire ai nostri eroi in corsia che non sono soli, soprattutto quando tutti meriterebbero di trascorrere i giorni della festa più sentita dell'anno con le loro famiglie. E così, in segno di vicinanza, alle 17.30 di ieri sera il tricolore si è acceso illuminando i cuori di medici, infermieri, operatori e pazienti unendoli tutti sotto una sola bandiera, quella del paese Italia che dall'inizio della pandemia ha sentito più forte il senso di comunità avvezza ai sacrifici e alle rinunce e si è stretta in un unico grande abbraccio per superare uno dei momenti più bui della sua storia. Tutto mentre la quotidianità scorreva regolarmente, anche questa sera solo una delle tante vissute ai posti di combattimento.